Conosciamo tutti la parabola dei talenti e tutti anche per commenti durante un'omelia. Ricordiamo bene il comportamento del primo servo, primo lavoratore, che con bravura moltiplica i cinque talenti, tra i tesoro delle monete, cinque talenti e quello dell'ultimo che invece lo sotterra per paura. Oggi però voglio riflettere sul secondo servo, in genere dimenticato dai commenti, dai commentatori, che non è il primo, ma non è neanche l'ultimo, è in mezzo. Non è parte del club degli eccellenti, non è un'elite dei migliori, è qualcuno che si trova a metà classifica. È una figura chiave nella vita, perché il suo comportamento racchiude un messaggio etico molto prezioso. Che cosa fa con i due talenti ricevuti? Non è ovvio che cosa faccio, perché il secondo servo ha imitato il primo e si è impegnato, ma poteva anche imitare il terzo e scoraggiarsi e non far nulla. E invece non si è scoraggiato, ha trafficato i suoi due talenti come quello con cinque. Nella vita non siamo sempre i primi e non siamo sempre i primi ovunque, è sempre. Ed è bene che sia così, io non avrei nessuna simpatia per un amico, un compagno, un collega che fosse primo ovunque. Perché i primi sono pochi e nel villaggio globale sono pochissimi. La globalizzazione ha ridotto i primi e ha amplificato i secondi e i terzi. E quasi sempre noi tutti siamo più vicini al secondo servo che non al primo né al terzo. Abbiamo alcuni talenti, ma non sono abbastanza per essere i più bravi. E di fronte a noi ritorna ogni giorno la stessa scelta. Investo le mie energie per invidiare chi è sopra e quindi mi frustro, oppure guardo quanto ho e traffico i miei talenti con positività, con entusiasmo. Il mercato capitalistico invece tende a farci coltivare l'invidia, perché le persone frustrate consumano molto e il PIL cresce. Ma noi sappiamo invece che la qualità di una comunità, di un'impresa, di una scuola, dipende soprattutto da come si comportano gli intermedi. Come si comporta quel 90% che non è il 5% dell'elite, neanche il 5% delle persone più svantaggiate. La ricchezza, il benessere e la felicità dipendono molto, tantissimo, dalle scelte che farà la maggioranza delle persone ordinarie. Non dei primi né dagli ultimi. Perché in alcune società, in alcune imprese, in alcune comunità crescenti, sempre di più sono, noi siamo spinti a coltivare l'invidia e la frustrazione. Tutti vorremmo essere vincenti, tutti incentivati ad essere i primi. E invece la bravura dei dirigenti, dei responsabili, dei manager, forse la bravura davvero decisiva, è creare in ogni lavoratore un clima di stima, di fiducia, di ascolto, che porta ciascuno a sentire quei talenti che ha come essenziali per il bene comune. Quindi trasformare la frustrazione in cooperazione. Perché è la cooperazione con chi è più bravo, con chi è diverso da me, la vera risposta alla tentazione dell'invidia. Grazie.